Medio Oriente strage di civili, bombe israeliane su un campo profughi a RAF, almeno 40 morti, Ucraina e il segretario nato Stoltenberg rilancia a colpire siti militari Russia. Medio Oriente almeno 40 civili morti a RAF. Ucraina e il segretario nato Stoltenberg rilancia a colpire siti militari Russia! Almeno 40 civili. Medio Oriente almeno rica join segretario nato Stoltenberg rilancia col sacri rilusse ... ... ... fa Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.